A parte che come tutti sanno io odio le feste, diciamo le feste obbligate e in più sono atea, quindi dalla Pasqua non me ne frega una sega. Però Claudio invece è uno che ci tiene, stamattina però è andato a fare un lavoro, oggi pomeriggio anche, domani pure, e come pranzo? Altro che agnello, capretto, a parte che non li mangerei mai, mai. Già mi fa un po' impressione mangiare i coniglio, perché me li ricordo, belli vivi, bellosi, eccetera. E vabbè, oggi per pranzo, visto che non potevamo comprare, perché quei soldi che ci sono servono martedì per l'ultimo giorno per il rinnovo dell'assicurazione auto, quindi non li si può toccare. Vi dico il pranzo? Allora, io mi sono finita i tortellini in brodo di ieri. E Claudio si è fatto due ova fritte con un po' di gorgonzola sopra. Stasera, non lo so, c'ho nel freezer dei bastoncini di pesce, ma so che lui non ha che li ami molto, ma, oh ragazzi, comunque ho avuto il miracolo di Pasqua. Miracolo di Pasqua è così fatto. Finalmente, per una notte, dopo mesi, sono riuscito a fare tutta una tirata dalle dieci alle nove. Perché non c'era iride, dormiva fuori, ero tranquilla, anche perché la sera prima io ero addormentata, mi sento sparare una luce negli occhi, dopo tutto quello che aveva combinato al mattino, fra l'altro. Mi sveglio e gli dico, cosa vuoi? Dammi un po' di sigarette, sennò ti spacco la carrozzella. Bella figlia che ho. È una cosa meravigliosa. Spero che dorma fuori anche stasera. Perché, sinceramente, io quando c'è lei, altro che anti-ansia, anti-depressivo, e vabbè, comunque, per chi ci crede, buona Pasqua.